Assessore Mario Marrandino, lunedì prossimo dovrebbero iniziare i lavori alla rotonda nei pressi del Lago d'Averno, che cosa sarà realizzato? È vero, lunedì inizieranno i lavori sulla rotonda del Lago d'Averno, sarà rifatta da capo, diciamo simile alla rotonda di piazza Capomazza, mentre dopo qualche giorno, intorno al giorno 30, inizieranno i lavori al parco Bogna, al campetto di calcio, parcheggio e quant'altro. La rotonda vicino al Lago d'Averno è diventata un imbuto per la circolazione veicolare, con questi lavori dovrebbe eliminarsi questo inconveniente? Ci siamo affidati a uno studio di persone che progettano le rotonde, voglio sperare che vada non bene, benissimo, così come la rotonda di piazza Capomazza, che all'inizio tutti dicevano che non avrebbe funzionato, invece adesso abbiamo i complimenti perché è una delle poche rotonde nella campagna che funziona al massimo, e di queste sono le gratificazioni che fanno piacere. Visto che ci siamo, volevo anche dire di altri lavori che ci sono sul territorio, lavori pubblici, le villette di Lucrino, sono tre villette a Lucrino, ce n'è un'altra d'Arco Felice e altri lavori che poi inizieranno perché sono in gara. Blocchiamo un po' il traffico, ma se è per il bene della città, anche i cittadini capiranno e gli farà piacere. Grazie a tutti.